Il piano è stato approvato, abbiamo 648 mila ettari di foreste, quindi avere attenzione è il minimo, il che non vuol dire che in una situazione abbiamo avuto in passato giornate terribili anche nel Lazio, mi auguro che non si ripetano, però il problema delle ondate di calore è un tema serio, è un problema dell'incuria, è un problema serio e quindi il rischio incendi è sempre qualcosa di cui bisogna vigilare per evitare tragedie e perdita di verde.